c'è l'ufo ragazzi l'ufo l'ho visto l'ufo dai dai vai su muoviti cazzo no non ci credo giù dalla montagna no dai cazzo che sfiga dai muoviti vai su dai che c'è ti che ci aspetta incontri avvicinati del terzo tipo ragazzi ecco qua l'ufo portami a fare un giro venimi a prendere dai 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 dove cazzo è andato no dai ragazzi non ci posso credere questo se n'è andato ma l'ho lasciato qua sul picco della montagna comunque ragazzi se volete sapere tutta la storia del tutorial perché è una storia bellissima per riuscire ad arrivare a vedere quest'ufo mettete tanti mi piace ciao a tutti dal vostro billy bully vi aspetto con la prossima novità